C'è parte Destinazione il lago di Calvacchia In provincia di Ascoli Piceno Che spettacolo le colline marchigiane Paesaggi incantevoli Il bello del BetaAlp 4.0 è che ci puoi andare dappertutto Non si ferma davanti a niente Il terreno preferito di questa moto E senza dubbio il paesaggio collinare Le strade interne Le salite, le discese Adesso fino ad Ascoli Piceno Faccio un pezzo di salaria 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.